Prima di dare la parola a Francesco Scoppola per presentare la sua conferenza e per presentare la mostra che si va aprendo, volevo fare un po' la pre-storia di questa mostra. Allora, una mossa su Piranesi fu programmata da Maria Lialumbroso e dalla sottoscritta per far conoscere al mondo l'esistenza a Roma nella fondazione della raccolta completa di Acqueforti del Piranesi, sono circa 1300. Questo successo nel 2017 perché andando a visitare la mostra, che non so se vi ricordate, a Palazzo Braschi sull'utopia, un Piranesi, un'utopia, si parlava di delle collezioni di Roma e esistevano solo alcune coppie che aveva il comune e tanto che per fare la mostra si erano rivolti alla fondazione Cini. Da allora, da quel momento, decidemmo di fare una mostra e scegliendo il tema che si doveva fare, che da scendere, da scendere, così in qualche modo non si potevano presentare tutte 1300 le Acqueforti, evitammo carceri molto conosciute, evitammo tutto quello che era archeologico per dato il mio mestiere e scegliemmo palazzi e piazze. Purtroppo, proprio poco dopo, fu diagnosticato a Maria Lia una grave malattia, cioè la SLA bulbare, che nel 2019 ce l'ha portata via. Volevo, già in una seduta al Consiglio, avevo chiesto che fosse dedicata a Maria Lia Puntoso, che era stato consigliere, poi soprattutto per una decina d'anni consigliere di legato di questa fondazione, una giornata e questa abbiamo scelto. Quindi la mostra è dedicata a Maria Lia. Perché? Perché uno dei compiti che si era prefissa durante il suo percorso di consigliere delegato era quello di fare mostre, di far conoscere praticamente ai romani, soprattutto, quello che possedeva la fondazione. In effetti ha fatto, ci sono state una serie di mostre che collegate, che ora io, per dare presto la parola a Francesco Scopola, faccio vedere, ma tutte con materiali che sono qui conservati. Questa del futurismo nella raccolta dei manifesti, questa più che era una donazione che aveva tutte le, direi, erano più che altro locandine sugli eserciti e le battaglie, poi questa che era un libretto che è stato trovato, che era il racconto di un grand tour fatto da un signore, direi dalle annotazioni tedesco, molto interessante, almeno dal mio punto di vista, perché aveva, tra l'altro, disegni di tombe di Tarquinia. Io di quelle mi sono occupata. Un'altra mostra è stata queste fotografie e articoli tratti dalla rivista di Roma e dalla Tribuna di Salvatore Besso. Chi era Salvatore Besso? Era il figlio giornalista di Marco Besso, che purtroppo è morto abbastanza precocemente. Qui è Maria Orsa Lombroso, che mostra, che fa, insomma, proprio all'inaugurazione di questa mostra. Poi una mostra documentaria, interessantissima, devo dire, della corrispondenza di Einstein con Michele Besso, che qui vedete fotografati. Michele Besso era il nipote, zio, zio, nipo, zio, per senso, di Marco Besso. E, anzi, a lui sembra che si debba proprio l'impostazione della biblioteca nel Salone Grande. Un altro, anticipando i tempi, su questa moda, diciamo, dei cammini che c'è nell'ultimo periodo, nel 2015 ci fu questa mostra nel segno del Tau della Conchilla, praticamente era sul cammino di Compostelle, su Santiago di Compostelle. Altri, sempre legato a Einstein e tutto il legame con Michele Besso, questa mostra fatta insieme all'Icranet. L'ultima mostra di cui si è occupata Orsa Lombroso è questo, Vedere la commedia, il Dante illustrato nelle edizioni della Fondazione Besso. Molte di queste mostre sono state poi pubblicate con una collana della Fondazione. E direi che auspicherei dal consigliere delegato che da ora in poi si ricominciassero queste pubblicazioni. Grazie. Ora Francesco, te. Io devo... Sentite? Sì, sentite. Ma il mio compito è facile quanto veloce stasera. Sono qui per ringraziare per la presenza e per dire che la Fondazione Marco Besso, dopo un periodo di chiusura per lavori importanti al palazzo e anche alla riorganizzazione dei fondi della biblioteca e dell'archivio, ha ora riaperto, anzi, apre proprio stasera, con questa mostra dedicata a Piranesi, le proprie attività, riprende le proprie attività a sospese ormai da un paio d'anni. E non poteva essere occasione migliore se non quella di iniziare proprio con una... con un fondo particolarmente ricco che possiede la Fondazione, che sono le stampe di Piranesi, che sono oltre un migliaio. Credo che sia la collezione più cospicua dopo quella Cini a Venezia, quindi è una bella iniziativa, l'abbiamo voluta e organizzata nel migliore di modi grazie anche al personale della Fondazione che ha collaborato instancabilmente. Questa sera iniziamo, ma oltre alla mostra, che poi rimarrà aperta fino a gennaio, sono previste anche una serie di conferenze su temi non direttamente o specificatamente legati a Piranesi, ma sulla linea, sulla cultura dell'epoca di Piranesi e quindi con un orizzonte un po' più ampio. La prima stasera è quella che terrà il professore architetto Francesco Scoppola, che è anche il curatore della mostra su Piranesi, e poi di mese in mese ci saranno altri 4-5 appuntamenti e poi tutte le conferenze saranno raccolte in un volume, così che la Fondazione riprenderà anche l'attività di editore che aveva e che ha mantenuto fino a qualche anno fa. Quindi questa è la linea che seguiremo nei prossimi mesi, quindi io ringrazio ancora per l'attenzione e per la presenza e con piacere lascio la parola a Francesco Scoppola. Grazie. Grazie moltissime, scusate la mia forse un po' confusionaria organizzazione e grazie moltissime a Gilda che mi soccorre in un momento in cui sarei rimasto senz'altra vittima delle tecnologie. Cercherò di organizzare il breve tempo a disposizione in due sezioni. La prima sezione è quel che volevo dire sul Piranese in questa occasione. La seconda è un rapidissimo excursus, ma proprio rapidissimo, con riferimento ai materiali in mostra, siccome per ovvi motivi non potremo fare capannelli e parlare insieme davanti alle opere, è meglio farlo qui e poi che ciascuno veda le opere dopo averle, diciamo, già previsionate. Quindi è divisa in due settori. Come sempre succede, man mano che si avvicinano le scadenze, si affollano anche le idee e gli spunti, se avessi dovuto scegliere questa sera il titolo per questa seconda delle conversazioni romane organizzate dalla società Dante Alighieri insieme alla Fondazione Marco Besso, che ringrazio entrambe moltissime per l'onore che mi fanno di avermi proposto di farne parte, l'avrei chiamata Le vie della luce, perché mi sembra che l'opera del Piranesi, contrariamente a quel che possa sembrare a tutta prima, cioè quella di un tenebroso nel secolo dei lumi, sia invece di un personaggio particolarmente illuminato in un periodo piuttosto scuro che infatti cova le rivoluzioni. E per cui, diciamo, è un po' un tentativo di ribaltare i luoghi comuni e di far vedere soprattutto la luce in Piranesi. Ora, siccome il tempo è avaro e siccome grazie al fatto, si può dire grazie anche se non è stato gradito, al fatto che per via delle note difficoltà di questo periodo la cosa è stata rinviata, perché si voleva fare per l'anniversario dei 300 anni della nascita, più di un anno fa. Poi si è andati alla chiusura dell'anniversario della nascita, cioè al compimento dei 301 anni. E poi non si è riusciti neanche in quel momento, per cui si è dovuti andare all'anniversario della morte, che sembra un anniversario senza senso. 243 anni dalla morte del Piranesi oggi. Ma sembra un anniversario 243, un numero qualsiasi. Invece è un numero simpatico, divertente per chi ha dimestichezza con la matematica, perché 3 alla quinta. 3 per 3 per 3 per 3 per 3. E siccome sia il numero 3 sia il numero 5, lo vedremo per chi lo studia, sono numeri interessanti, siamo in un anniversario significativo della sua morte. Parleremo di sfuggita anche del suo sepolcro. Però, proprio perché c'è stato questo continuo rinvio, ho avuto modo, più del solito, di mettere a punto le idee. Non sono arrivato oggi, diciamo, affannato. E quindi ho potuto avere il piacere di mandare agli amici della Fondazione Besso un testo. Siccome questo testo c'è, e ormai è facile farvi girare i testi, io vi farò grazia di questo testo che non vi leggo e che non seguo quasi nemmeno e mi limiterò a scorrere le immagini che grazie alla cortesia di Gilda non ho dovuto rinunciare a farvi vedere, perché se fosse stato per me non sarei stato in grado di seguire un filologico mentre usavo il computer. Quindi, se perdonate queste mie, diciamo, limitazioni, incomincerei subito con Dante Alighieri che vi propongo nella medaglia del 1921, di 101 anni fa. Ora, allora, non c'erano stati particolari impedimenti a celebrarne l'anniversario. Il sesto era allora, non il settimo. Il settimo, purtroppo, con quello di Raffaello, con quello di Piranesi, con tanti altri, è stato pesantemente penalizzato da queste emergenze generali. Ma invece il sesto centenario era stato debitamente celebrato e quindi mi sono rifatto a quelle celebrazioni del 1921 che sono poi il tramonto dell'Italia liberale, perché è proprio l'anno prima, ma che è stato un periodo fertilissimo e che fra l'altro è anche la culla di questa fondazione, insomma, è il clima culturale nel quale si è prodotta la fondazione di cui oggi tutti possiamo offrire. e quindi mi sembrava giusto, sia per l'intesa con la società Dante Alighieri, sia in riferimento alla traccia lasciata nella prima delle conversazioni romane da Andrea Riccardi e da Lucio Caraccio, e sia appunto per il periodo di poter avviare il discorso con un riferimento a Dante. Ma il riferimento si fa subito al buio, alla luce e alla iconografia, perché se possiamo andare alla figura numero due, alla successiva, noi vediamo che nelle illustrazioni di Doré della Divina Commedia, nella seconda cantica, nel terzo canto della seconda cantica, l'illustrazione di Doré di Doré è una intuizione di luce ed ombre che pochi, secondo me forse nessuno, ha supposto possa aver ispirato il tragico manifesto di Berkeley in la prossima illustrazione, l'Isola dei Morti, che è un po' l'emblema della sconfitta dell'Europa nel Novecento, nel ventesimo secolo. Cioè è proprio quest'idea dell'isolamento, isolamento dei singoli stati, isolamento della ricchezza, isolamento del sapere, eccetera, eccetera, del chiudersi in se stessi che fa sprafondare nella morte, al punto che sappiamo tutti che questo quadro è stato ritratto alle spalle dei peggiori momenti politici che il secolo abbia attraversato. E quindi è singolare, anche volendo ritornare indietro, non è una forzatura. Do-Re probabilmente ha ispirato Berkeley e sicuramente Dante ha ispirato Do-Re perché andava e sicuramente queste visioni dell'Isola dei Morti hanno alimentato un'idea di arroccamento, di star bene in pochi, di salvarsi da soli, del si salvi chi può, ma a discapito degli altri, che sono stati il flaggello dell'Europa e che è stato associato proprio all'oscurità, al buio, che eclissa la luce. Voi vedete che quel poco di luce che c'è nel cielo viene eclissata dall'Isola dei Morti. Per cui, se non vi sembra troppo libera, troppo anche forse poetica questa impostazione, mi sembrava giusto per introdurre una corsa attraverso l'opera di Giovanni Battista Piranesi basata sulla luce di fare questo primo riferimento. Andiamo avanti. Abbiamo anche la documentazione di quanto il disegno possa essere variamente inteso. Questa è la mappa di Soleto. Oggi diremmo Santa Maria di Leuca è un frammento di ceramica che riproduce la punta della Puglia, l'estremità meridionale della Puglia, particolarmente fedele alla realtà nelle dimensioni. E quindi noi sappiamo che il disegno dal vero è molto più remoto sia della camera oscura che pochi ricordano che ha già mille anni alle spalle di storia essendo stata più che inventata scoperta perché basta avere una camera buia e un buco per scoprire la camera oscura. Sulla parete opposta al buco le immagini esterne appaiono rovesciate. È stata osservata almeno mille anni fa da Al-Mzr o Al-Bzr un studioso, uno scienziato, filosofo arabo nato a Bassora da cui il nome di Al-Bzr è morto al Cairo da cui il nome di Al-Mzr quello del Cairo. Ma siamo dunque di fronte all'idea di un disegno che si ancora alla realtà con mille sistemi. Il primo di questi sistemi fu la trigonometria, lo studio della geometria e lo sappiamo. Se andiamo credo che ci sia da andare esatto se andiamo poi alla idea che è stata lanciata da Andrea Riccardi e da Lucio Caracciolo nella prima degli incontri e cioè che Roma possa riaprirsi al mondo a partire dal mare dal Mediterraneo nel quale ha una posizione centrale mi faceva piacere e anche farvi vedere sempre su base di cartografia e di disegno le mappe del porto di Roma del punto di accoglienza il punto di arrivo e di partenza voi vedete che c'erano lo stagno di Levante e di Ponente i due rami del Tevero in realtà il Tevero in passato aveva avuto un delta prima delle bonifiche durante le piene gli stagni laterali al fiume entravano in collegamento col fiume e le bocche verso il mare erano numerose andiamo avanti alcune di queste bocche avevano un varco più ampio altre un varco più ristretto da cui anche il nome della torre baglianica o vaglianica nel senso che il baglio delle imbarcazioni che potrebbero entrare nello stagno e ripararsi dal mare mosso la torre baglianica era limitato e quindi c'era la torre a segnalare che lì andavano solo le imbarcazioni di baglio ridotto ma possiamo andare avanti perché ecco qui c'è una vecchia immagine un po' sfocata della torre baglianica ma possiamo andare avanti e queste immagini della apertura di Roma sul Mediterraneo pongono anche un problema sui nomi perché tutti gli archeologi credo Gilda correggio mi se sbaglio si sono affezionati all'idea che perfino forse il Monte Porzio perfino forse la Gens Porzia sicuramente Castel Porziano siano dal collegarsi alla radice dei maiali del nome dei suini perché c'è una vecchia addizione di Porcigliano ora viceversa sono per fortuna presenti anche coloro che dubitano di questa impostazione se andiamo avanti e vediamo che probabilmente il nome di Porcigliano deriva Prociglia Maris cioè quei porti naturali prima del porto di Claudio e Traiano protetti dalla duna dall'acciglio del mare dove proprio si entrava in una laguna naturale come da Torbarianica in una palude al riparo delle onde e andando avanti sempre correndo abbiamo una monetazione che ci conferma della Gens Prociglia non Porciglia ma diciamo che e non è solo un anagramma insomma e a conferma di questo andando avanti questa è sempre monetazione Prociglia ma andando avanti noi possiamo vedere arrivare all'idea che non so se la successiva va bene lo stesso anche facendo un piccolo salto logico questa invece è la incisione di Claude Nicolà Ledoux sulla casa del povero che Leonardo Benevolo nel 1962 ha voluto porre come prima pagina della sua monumentale storia dell'architettura moderna perché fa partire il suo studio dalla sete di giustizia che matura nel settecento non quindi solo sete di reazione di ragione ma sete di uguaglianza di giustizia sociale e però la casa del povero non serve a pretendere qualcosa di più di un'isoletta in mezzo al mare ma serve a indicare la vera ricchezza perché la vera ricchezza sono le idee che assistono il povero sotto l'albero dalle nuvole e quindi c'è un ribaltamento cioè c'è da una parte tutto il settecento nei suoi conflitti nelle sue contraddizioni dall'altra parte una liberazione dalla logica solo economica solo di possesso di proprietà che ha afflitto quel periodo e i periodi successivi andiamo avanti anche se c'era abbiamo saltato un'immagine ma la vedremo qui siamo notoriamente nella preutingeriana nella quale Roma ha questo ruolo non solo di capitale del mondo antico e di snodo fra le vie consolari ma anche in riferimento al porto sul mare i mari nella preutingeriana sono ridotti a strisce perché la tavola è molto compressa in verticale essendo un rotolo stretto e lungo e che dovrà rappresentare il mondo con tutte le tappe dei viaggi ma dà l'idea che Roma possa ripartire da questo suo anche posizione geografica per cercare di ritrovare un senso non per sé ma per tutti da offrire a tutti andiamo avanti e siamo forse ritornati alla fase di Porciliano le immagini non sono proprio del tutto in ordine ma andiamo avanti perché non è importante andiamo andiamo ecco qui noi vediamo dal mare il vulcano laziale dei monti del Tuscolo del Monte Porzio e del Monte Cavo di Frascati per intenderci sulla destra ora la cosa interessante è che anche prima della bussola anche prima dei diciamo degli sviluppi moderni della navigazione indubbiamente si sapeva che il sole e gli astri sorgevano da Levante e indubbiamente si sapeva che nell'estate il sole nella sua alba e nel suo tramonto si spostava verso nord sull'orizzonte e nell'inverno verso sud fino ai punti del sostizio che erano celebrati a volte anche da assi stradali e da monumenti ora siccome ognuno ogni navigante sapeva in che stagione stava navigando e quindi sapeva stimare a occhio quanto l'alba del sole il tramonto del sole fosse disassata dall'est e dall'ovest quando si è in mare aperto e si vede Monte Porzio esattamente a est si può andare dritti tranquilli a imboccare il corso del Tevere allora che questo nome di Porzio ancora oggi sia non legato al porto ma sia legato ai cinghiali ai maiali selvatici è molto curioso perché sicuramente sia le famiglie sia degli addetti portuali quindi la Gens Porcilia Procilia detta poi Porcilia per corruzione ma non perché fosse addetta ai Porcilia insomma mi fa piacere anche di dare per via diciamo etimologica un senso a questo nome della geografia intorno a Roma da Castel Porziano fino al Monte Porzio sui Colli Albani andiamo avanti perché bisogna correre qui se veniamo invece ai porti della città al porto di Ripa Grande per le imbarcazioni che risalivano il corso del Tevere o a Remi o assistite dai tiri degli animali con la tecnica della divergenza che poi si è dimenticata non la usa più nessuno ma bastava una sola fune e una sola strada lungo la riva per tirare un'imbarcazione al centro del fiume a patto di saperla ancorare non da prua ma da un punto opportuno lungo la fiancata e con i tiri dei buoi e la divergenza si portavano anche le navi di grosso tonnellaggio fino allo scalo dei marmi fino gli obelischi dell'Egitto sono arrivati a Roma in antico per questa via e quindi è una strada e fra l'altro l'ospizio il punto di arrivo di ospitalità di approdo di accoglienza lungo il Tevere di fronte allo scalo dei marmi a Ripa Grande è a valle del vecchio ponte Sublicio che è ridotto solo a Rovina perché il nuovo ponte Sublicio farebbe in modo che non si possa arrivare al San Michele viceversa il vecchio ponte Sublicio era prima del più a monte più verso l'isola Tiberina andiamo avanti perché dobbiamo correre ecco su questo ospizio del San Michele su questo porto era stato anche eretto un faro che vediamo nelle fotografie precedenti alla costruzione degli argini dei muraglioni per evitare le piene dopo l'unità d'Italia ma il faro di Ripa Grande è un altro di questi spunti che vorrei cercare un po' forse grossolanamente e frettolosamente di offrirvi sulla luce perché noi sappiamo tutti che il Piranesi è sepolto al Priorato e guarda il San Michele diciamo in una chiesa che per molti secoli ha avuto questa veduta al di là del fiume e sappiamo che tutti i riferimenti alla luce non sono forzati se li associamo al Piranesi al punto che dovendo lui scegliere un proprio monumento sepolcrale ha ricomposto frammenti eterogenei provenienti da varie antichità per farne un candelabro per farne una lucerna non per farne un sostegno antico della luce andiamo avanti perché tanto sono tutte immagini del San Michele e del suo faro prima e dopo la costruzione del faro prima durante e dopo la costruzione degli argini le possiamo correre rapidamente ma vedete che l'ultima di queste immagini forse o già questa voi potete tranquillamente vedere che il San Michele è ancora corto è lunghissimo ma è ancora corto perché segue l'andamento convesso del fiume ma si ferma prima di Porta Portese non sono ancora costruiti i riformatori le carceri minorili maschile e femminile che vengono aggiunti a ridosso del San Michele verso Porta Portese mentre il Piranesi realizza potremmo arditamente dire il suo unico cantiere romano a Santa Maria del Priorato per l'Ordine di Malta davanti ai suoi occhi alla fabbrica delle carceri dei ragazzi e quindi questa idea che non è mai stata messa in collegamento tra il San Michele e il Porto di Roma già che si è parlato di Roma città aperta Umberto Gentiloni è stato citato da Andrea Riccardi e si è parlato e quindi Roma città aperta non solo durante la liberazione non solo alla fine della seconda guerra mondiale ma Roma città aperta in genere e si è parlato di Piranesi a Roma direi che il luogo di Piranesi a Roma possa proprio essere questo e che le carceri potrebbero essere messe più in relazione a quel cantiere che lui sicuramente ha visto crescere dall'alto dell'Aventino mentre seguiva i lavori a Santa Maria del Priorato dove è sepolto andiamo avanti percorrere ecco qui si vede sulla destra l'Aventino e sulla sinistra il San Michele guardiamo verso le rovine del Ponte Sublicio e verso l'Isola Tiberina e qui si vede ancora meglio in questo dipinto che a sinistra il piccolo fabbricato non è ancora quello delle carceri è ancora una casupola addossata all'ospizio del San Michele che è ancora solo ospizio cioè ospedale e centro di ospitalità ricovero per chi arriva e solo successivamente i giovani carcerati vengono avviati a dei mestieri che sono poi quelli legati al porto per cui le corderie le funi eccetera ma non si può dilungarsi e quindi forse dobbiamo ritornare all'altra sequenza nulla scusami te grazie tantissimo perché pensa che mi sembra avventuroso in questo modo col tuo aiuto pensa cosa avrei complicato se fossi stato da solo in ogni caso ecco eravamo qui se forse si può andare avanti da qui allora ecco adesso c'è uno studioso Leonardo Benevolo che abbiamo già citato a proposito della casa del povero di Ledoux che ha indicato con chiarezza che esiste da una certa data in poi del novecento forse già dall'ottocento la struttura portante degli edifici e questo lo sappiamo grazie alle corbusier grazie al dominò di cui questa è una esemplificazione ma Benevolo ha notato che esiste una struttura portante anche per le città e questa ossatura portante che non si può non può avvenire meno altrimenti non sta insieme la città e secondo lo studio approfondito che Benevolo nell'arco della sua vita ha compiuto su tutte le città del mondo assieme a tanti altri assieme ai suoi assistenti e ai suoi colleghi che sono stati poi Carlo Melovrani e Tommaso Giuralongo Italo Insolera Pierluigi Cervellati e tutti questi studiosi insieme applicandosi alle città hanno visto che la struttura portante delle città il dominò delle città quel che il dominò è per un edificio per le città è l'edilizia storica la città antica le strade gli acquedotti le fognature le piazze e le sue rovine sembrano dei pesi sembrano degli ingombri e costruttori spesso sembrano degli accidenti degli inconvenienti che è meglio non incontrare ma sono l'ossatura che tiene insieme la struttura urbana le città di nuova istituzione prive di questo scheletro collassano sotto la crescita esponenziale di un mondo che l'ha ricordato Andrea Riccardi nel 2003 è diventato a prevalenza urbana di questi nostri oltre 7 miliardi di persone viviamo per più della metà nelle città non solo perché ci si sia trasferiti dalle campagne alle città ma perché le città invadono le campagne e quindi siamo ormai una popolazione urbanizzata bene queste città restano insieme anche quando diventano megalopoli anche quando rischiano il collasso restano insieme se c'è una struttura e questa struttura è la loro storia quindi le immagini che seguono del dominò di Le Corbusier e delle strutture portanti che nessuno si azzarderebbe a toccare in una ristrutturazione potete buttare giù i tre mezzi ma non le strutture portanti non i solai e non i pilastri se vogliamo provare ad andare avanti sono vabbè lasciamo andare perché questi sono inconvenienti di formato elettronico ma insomma va benissimo è più che chiaro sono traducibili nei centri storici in quel che noi chiamiamo dalla metà degli anni 50-60 i centri storici delle nostre città andiamo pure avanti perché queste sono sempre ecco ora il piranesi archeologo il piranesi che ha illustrato la Roma antica non è che vada tanto disprezzato solo perché con grande libertà e fantasia ha affrontato la forma urbis severiana nei suoi frammenti la preseveriana di Vianicia ancora non era stata scoperta ovviamente e quel che si disponeva allora come planimetria antica certa della città erano questi frammenti sia in queste sue libere ricomposizioni sia nelle sue successiva immagine e nell'immagine successiva noi vediamo alcune delle sue ipotetiche ricostruzioni di come poteva essere stata la Roma antica chi studia l'archeologia scuote il capo cioè dice non c'è c'è poco o nulla di attendibile in queste visioni ma viceversa quel che forse a noi sfugge è che piranesi non guardava alla storia ma cercava di guardare e di portarci a guardare all'interezza del tempo cioè non a una fase della storia ma alla complessità della storia a come ci può essere una continuità fra una fase e l'altra andiamo pure avanti ecco questi sono sempre dei disegni della Roma antica di piranesi che se giudicati con l'occhio archeologico possiamo ritornare indietro se giudicati con l'occhio archeologico sono inattendibili se li giudichiamo con questo occhio chiamiamolo di eternità di attenzione alla dinamica tutta intera degli eventi sono molto attendibili perché ci si ritrovano forme delle città di un secolo successivo delle città dell'ottocento del neoclassicismo eccetera per cui sono degli studi molto lungimiranti molto ad ampio insomma con un orizzonte molto esteso andiamo avanti perché dobbiamo correre questo voi sapete che il piranesi sicuramente aveva questa attenzione alla storia sicuramente non ignorava esattamente come noi non ignoriamo la sua opera di 250 anni fa lui non ignorava le opere di 250 anni precedenti a lui in particolare quel fertile momento di inizio 500 in cui Luca Pacioli pubblica Divina Proporzione in cui forse il Colonna Francesco Colonna pubblica l'ipner otomachia Polifili e in cui anche Dürer incide gran parte delle sue opere ed è stato sicuramente un farro per piranesi e soprattutto in cui la stampa si è appena fermata siamo al transito fra gli incunaboli e le Cinquecentine un esperto di incisione non poteva certo ignorare quel momento ora il frontespizio di questo capolavoro che è l'ipnerotomachia che a essere letterali e per chi vuol correre è solo una storia di erotica di amore per Polia ma a voler essere un po' più filologi potrebbe essere la lotta contro i muschi e licheni contro il degrado per chi ama la molteplicità non per chi ama Polia ma per chi ama la molteplicità la politica la città e il secondo rigo di questo frontespizio se andiamo alla immagine successiva dice non nisi somnium cioè le cose umane si possono fare solo sognando e non solo perché nel corso del tempo occorre l'alternanza del riposo e della veglia ma perché senza lo slancio di qualcosa che sembra irreale che sembra impossibile che sembra irrealizzabile non nasce nuovo non si va da nessuna parte si resta ancorati nell'ombra di quello che già esiste e che si corrompe col tempo e che peggiora andiamo avanti perché devo correre e già seguendo ecco nell'ipnerotomachia forse illustrata dal Mantegna su chi abbia fatto queste incisioni di 250 anni precedenti a quelle di Pirenesi c'è un ampio dibattito e non sto certo qui a tentare di riepilogarlo ma non c'è dubbio che si tratti di Polia e del suo amante o che si tratti di due studiosi che simboleggiano l'umanità la persona umana sulla sinistra del disegno e in basso si vedono due persone che si affacciano a guardare le rovine e quindi è molto chiaro che il titolo a non voler essere biechi non è una storia erotica perché siccome il volume è ermetico sia nel testo sia nell'illustrazione è un capolavoro di ermetismo il titolo non è riferito alle storie d'amore per Polia ma è riferito alla contemplazione delle rovine ha avvertito subito il lettore nella maniera più chiara possibile perché più rovine di così non si possono rappresentare e questo stesso motivo pochissimi anni dopo in omaggio al Vieto lo possiamo trovare proprio nel Duomo di Orvieto siamo andati troppo avanti ma adesso forse ritorniamo indietro ancora di una indietro ecco dove Luca Signorelli e il Beato Angelico guardano la fine dei tempi guardano le rovine e istruiscono l'umanità con la loro opera pittorica nella stessa posizione sulla sinistra del dipinto che abbiamo nell'ipnerotomachia anche qui la firma di Luca Signorelli che si accosta al suo predecessore perché non c'è questa promozione di se stessi che è tipica del nostro tempo ma c'è la promozione della continuità tra le persone del passaggio del testimone della staffetta esattamente come Dante per Virgilio Luca Signorelli si accosta al suo predecessore il Beato Angelico e insieme contemplano le storie dell'anticristo la fine dei tempi la rovina dell'umanità prima del giudizio allora se ci sono a distanza di pochi anni all'inizio del Cinquecento questo tornare sul tema di sapere osservare le rovine almeno un insegnamento piranesiano lo possiamo anticipare non è tutto cupo quel che è buio e non è tutta luce quel che è luccica cioè bisogna saper guardare nel buio e discernere in quel che sembra buio e non è perché se no si rischia potremmo dire in breve visto il tempo stretto il manicheismo si rischia lo schematismo si rischiano i paradossi del giusto mezzo si prendono scelte preconfezionate che non portano da nessuna parte andiamo avanti e questa è sempre per stare ai primissimi anni del Cinquecento se non sbaglio questo è 1503 è un'incisione di Dürer che sicuramente il Piranesi ha conosciuto e che ha avuto un titolo che è stato a lungo equivocato scusate se oggi mi soffermo forse troppo sui nomi ma questa è nota come la grande fortuna o grossa fortuna e solo i più eruditi la chiamano la nemesi di Dürer in realtà nel tedesco del Cinquecento grossa fortuna significa fortuna generale non significa grossa fortuna significa fortuna destino di tutti quindi nemesi quindi è giusto il nome di nemesi di Dürer è sbagliato il titolo di grossa fortuna questo destino generale Dürer lo avverte e ci avverte incombente in modo minaccioso perché non si potrebbe essere più in disequilibrio una donna non giovane non nel pieno della sua forma fisica alata ma di un modo di essere alata che mette in pericolo per la sua reale capacità attitudine al volo regge una piscide che è il segno della conservazione con due dita cioè custodisce un tesoro ma fra due dita la piscide non è neanche in verticale è inclinata pronta a cadere tra le mani ha delle briglie che servono a governare a guidare ma nelle quali inciampa sta in piedi su una sfera la sfera sta sulle nuvole non si potrebbe essere più avvertiti del pericolo di così e sotto i suoi piedi ci sono le città e le campagne cioè quel che lei dovrebbe governare sono i destini delle persone l'ambiente fisico in cui vivono e questo con 500 anni d'anticipo rispetto ai nostri allarmi di Glasgow odierli cioè c'è un avviso e vedremo che la sfera torna in Piranesi a sorpresa per cui che non la dimenticate la sfera ai piedi della non della grossa fortuna ma della grossa minaccia della nemesi di Dürer del nostro destino incombente la ritroveremo più avanti andiamo avanti e qui l'abbiamo già vista era comparsa forse fuori posto ma è sempre la casa del povero di Claude Nicolà Ledoux che qui sarebbe stata al suo posto ma andiamo avanti andiamo avanti va benissimo ecco e qui c'è il Piranesi che parla di eternità qui siamo al bivio tra l'appi e l'ardiatina e ovviamente un archeologo dice questo stato di monumenti e di cose non è mai esistito è frutto di un'allucinazione notturna del Piranesi e sia ma l'erudizione del Piranesi fa lui fa sì che lui si adoperi a suggerire l'affastellamento dei monumenti nel corso del tempo per chi ha passione per questo gioco cioè di vedere la compresenza delle persone e delle opere in uno stesso luogo attraverso i secoli questa che sembra una gran confusione che sembra una scena di caos infernale è invece non una babele ma l'ordinata compresenza dell'accaduto del successo andiamo avanti perché su ognuna di queste immagini vi potrei annoiare troppo a lungo e meno male che non leggo qui siamo finalmente a quelle carceri di cui abbiamo parlato prima che il Piranesi distingue fra il capriccio guardate perché i nomi che usa il Piranesi nelle sue intestazioni sono deliziosi perché non c'è dubbio che è per capriccio è per invenzione che noi ci autocarceriamo tra le mura buie e cupe delle nostre prigioni ma è per uscire verso la luce da questo capriccio che la sua opera ci avverte con una serie di stranezze che potrebbero incuriosire a ben guardare andiamo avanti qui sono le carceri che solo per 4 o 5 perché sarebbe sterminato il tema e giustamente la fondazione Besso in precedenza aveva già escluso di tornare con una mostra su questo tema torniamo solo per una forse indietro ma o due ecco ma insomma abbiamo già detto che forse sono anche queste uno spunto dal vero nella costruzione delle due carceri minorili del San Michele andando avanti abbiamo parlato dei due candelabri ricostituiti dal Piranesi presso l'Accademia di Francia che all'epoca non era ancora nel palazzo Ricci di Montepulciano poi Medici sul Pincio ma si trovava ancora lungo via del Corso in quella sede il Piranesi riassembla dei frammenti archeologici per trarne dei candelabri di invenzione ma che uno dei quali finisce per essere il suo monumento sepolcrale dentro Santa Maria del Priorato monumento che verrà asportato nel corso delle campagne napoleoniche in Italia che finisce a Louvre dove oggi si trova oggi la sepoltura del Piranesi è celebrata da una statua andiamo avanti perché rischio di dilungarmi troppo andiamo andiamo perché sono ecco questa è Santa Maria del Priorato dopo gli ultimi restauri e andando avanti qui c'è la statua che oggi segna entrando sulla destra la sepoltura di Giovanni Battista Piranesi questo è un suo ritratto di Carlo Labruzzi molto noto ma andiamo avanti perché perfino sul rotolo nelle sue mani e questo invece è il cippo che il figlio forse aveva pensato di costruire ma l'ho messo perché in basso c'è scritto tre giorni prima delle ID di novembre siccome i giorni si contavano compresi gli estremi è oggi il 9 novembre allora mi sembrava giusto mettere anche questa immagine perché è significativa e poi è fatta dal figlio andiamo avanti ecco l'arco di Tito e l'arco di Costantino ci avvertono subito di una cosa che vedremo nelle opere in mostra queste non sono in mostra ma ci avvertono di una cosa che a tutta prima non si vede perché se voi guardate l'arco di Tito potete con erudizione dire è prima del restauro certo il Piranesi è precedente agli interventi del Valadier dello Sterner in quell'area potete osservare altri particolari la Torre dei Frangipane forse è già demolita potete soffermarvi sul dintorno su quel che non si vede degli orti franesiani e quel che si vede di Santa Maria Nova e Santa Francesca Romana ma pochissimi osservano che il sole è precisamente proveniente da mezzanotte se fosse una stranezza isolata sull'arco di Tito noi alzeremmo le mani diremmo si usava il banco ottico ma ogni tanto al banco ottico non faceva le ombre poi tornato a studio si inventava luci ed ombre e le ha messe per sbaglio a rovescia andiamo all'arco di Giano una delle immagini piranesiane dell'arco di Giano sole precisamente a mezzanotte voi direte non è detto perché l'arco degli Argentari sulla destra potrebbe essere in ombra perché schermato dal portico si vede poco perché schermato dal portico della chiesa ma in realtà in realtà se voi guardate non solo la facciata che guarda verso San Giorgio al Velabro e alla luce ma attraverso il fornice si vede la luce entrare dal fornice di destra che è proprio quello rivolto a nord leggermente verso Ponente questa facciata che abbiamo in primo piano è rivolta a Levante leggermente verso nord per come è congegnata la luce qui questo è sole di mezzanotte e non mi dite che è luna di mezzanotte perché nel corso della notte la luna fa il corso del sole va verso mezzogiorno si leva da oriente va verso mezzogiorno e si corica a Ponente e quindi ripete perché riflette il corso del sole piena o non piena è un specchio che riflette la luce del sole il sole è a mezzanotte ma sotto l'orizzonte non lo si vede e Piranesi fa un'infinità delle sue opere col sole di mezzanotte allora vedete che basterebbe questo dettaglio sulla luce se non ci fosse anche il candelabro se non ci fossero tanti altri spunti per avvertirci che questa è una chiave di interpretazione per l'opera di Piranesi che è stata credo scarsamente messa in evidenza andiamo forse avanti o forse abbiamo finito allora se sono finite benissimo perché anche se non era questo il filo da seguire nelle mie pagine che vi consegnerò tramite la rete per chi fosse interessato a seguire il discorso che era pronto per oggi sul disegno capiente perché quel che volevo dire su questa mostra e che dirò commentando nelle opere che l'altro insieme di figure le cui immagini iniziano con la parola figura semmai chiederemo un aiuto ma se no rinunciamo a vederle perché le vedete in mostra ve le descrivo non stiamo grazie siamo siamo stati eroici e tu sei stata eroica io appena appena sufficiente ma non occorre far vedere le opere in mostra sì forse sono anche queste ma siccome vedo anche ripetute delle immagini che abbiamo già dato non ci preoccupiamo non fa niente non vi proietto per esempio e la dico subito l'immagine dell'altare maggiore della chiesa di Santa Maria del Priorato sull'Aventino perché mentre l'altare maggiore visto da davanti è notissimo e il Piranesi non lo ha veduto perché è morto prima del completamento dell'interno della chiesa per cui non ci interessa il retro dell'altare maggiore che è la sua struttura a proposito della struttura delle città e delle strutture dell'architettura è una sfera che sembra proprio quasi quella di Dürer e quando poi eventualmente sarà possibile ricevere testi e illustrazioni la vedrete la foto del retro dell'altare che non si trova neanche in rete l'ho scattata io andandoci è proprio la palla ai piedi della Nemesi di Dürer è lei dunque siccome c'è questa attenzione agli astri alla totalità all'insieme io credo che delle vedute di Roma disegnate ed incise da Giovanni Battista Piranesi quelle che sono qui in mostra possono benissimo illustrare a partire da quelle del Colosseo questa anomalia a volte rare volte il Piranesi si cimenta con lo sfidare l'osservatore e dirgli scopri se questa è luce reale a volte c'è una luce della mattina o del pomeriggio o col cielo offuscato dalle nuvole ma la maggior parte delle volte ci avverte per chi lo voglia osservare che quel sole o quella luna o quella luce naturale non ci sarà mai che c'è solo nelle sue opere e a questo punto la cosiddetta affidabilità delle vedute del Piranesi è capovolta perché l'affidabilità era totale nel senso che usava il banco ottico e quindi è come dire oggi per un fotografo usa la ripresa e ovviamente è affidabile perché si parte ma l'elaborazione dell'immagine è tale da poterci includere tutto dentro da poter fare in modo che nulla sia escluso e siccome è tardi voglio lasciarvi il tempo per la mostra e non ne proiettiamo nemmeno neanche prima le immagini ringraziando l'architetto Carla Rivolta che le ha ordinate e ha compilato le schede per ognuna delle 27 se non sbaglio immagini in mostra vorrei solo concludere con una serie di osservazioni lo scopo lo scopo di questi giochi del Piranesi è secondo me può essere lo azzardo liberarci dalle carceri di capriccio e di invenzione che ci costringono nel buio dico di capriccio e di invenzione in un periodo in cui nessuno sottolinea nessuno nota nessuno si ribella nessuno tanto meno grida sui tetti che per carità non sarà questo ma non è stata messa al bando la produzione artificiale di super virus i laboratori di ricerca nel mondo da 40 anni producono virus più micidiali possibili poi hanno il compito di tenerli isolati questa produzione non serve speriamo dicono per scopi militari ma serve per affinare la medicina per affinare i farmaci è senz'altro vero lo abbiamo visto in quanto poco tempo sia stato apprentato un primo rimedio ma non c'è dubbio che non siamo sicuri di non averlo fatto noi non siamo sicuri di non vincere una battaglia contro un nemico che abbiamo prodotto il nemico di se stesso era una figura della tragedia antica nella Grecia e compare e ritorna e nelle scritture la conoscenza del bene e del male è la fine del paradiso dunque diciamo il Pirenesi favorisce un approccio alla scienza non sospettoso e per questo forse è stato indicato subito come poco scientifico perché suggerisce un approccio alla scienza non fantasioso ubriaco o onirico niente affatto lo suggerisce estremamente coscienzioso ma non cieco attento vigile pronto a fare un passo indietro se la scienza ci inganna se ci porta in direzioni pericolose pronto a quello che più di un secolo dopo la sua morte il Camillo Boito riassumerà nel suo motto contentarsi a tempo fermarsi a tempo contentarsi del meno possibile cioè è una scienza che deve sapere conoscere la discrezione e non ubriacarsi di se stessa l'altra e questo scopo il Pirenesi lo propone attraverso la padronanza della luce ma anche attraverso l'apertura l'ospitalità l'accoglienza io ho cercato di riassumere il testo a braccio e correndo dietro le immagini ho cercato di parlarvi anche del manifesto del porto solo perché volevo non lasciare cadere lo spunto di Roma e il Mediterraneo che veniva dal primo di questi incontri non c'è dubbio che il San Michele sia l'emblema dell'accoglienza il faro un faro che sul fiume non serve perché sul fiume non ci si perde lo si risale e si arriva al porto dello scalo dei marmi è un faro simbolico è una fonte di luce simbolica il Pirenesi dunque ha guardato in modo ampio allo spazio e al tempo e ha fatto capire per via grafica senza parole che la ricchezza è qualcosa da dare non qualcosa da trattenere non è l'isola dei morti l'isola dei morti è la ricchezza da trattenere da serbare la cassaforte nell'opera di Piranesi la ricchezza è qualcosa che deve uscire e lui la dà a piene mani perché ha avuto una produzione incredibile che è continuata dopo la sua morte tramite i figli e gli allievi la bottega la scuola di via Gregoriana qui accanto a Trinità dei Monti l'altro elemento a proposito della luce di mezzanotte che avrei commentato ai piedi delle tavole che ora voi vedrete con la curiosità di cercare di orientarvi per Roma e pensare dove è il nord e da dove viene il sole in quella tavola la luce può venire e questo secondo me è uno dei messaggi chiave che è nascosto nell'opera di Piranesi la luce può venire e viene da dove non crediamo possa provenire e questo è un assioma perché lo ripete in maniera addirittura sistematica ossessiva e non può essere un errore sistematico di aver confuso il nord col sud stando al banco ottico non ci crede nessuno ci sono alcune opere in cui lui gioca con i tempi dell'opera questo sì si è disegnato a partire dall'estremo di sinistra e finisce all'estremo destra per non macchiare disegno preparatorio dell'incisione fatto a matita o carboncino per non macchiarlo fa le ombre all'inizio di mattina poi a mezzogiorno alla fine di sera fa capire il tempo dell'opera e questo c'è e anche lì alcuni critici hanno detto è incoerente nella teoria delle ombre ma per favore è insomma una utopia è bello dirlo e riassumerlo in questo modo le conversazioni romane si possono forse svolgere anche sotto questo profilo pensando poi alla sua tomba al priorato che è il priorato dei cavalieri di Malta che sono poi la prosecuzione dell'opera dei templari che sono le chiese a faccia quadra e tutti sappiamo che Santa Maria del Priorato anche era a faccia quadra perché era di ospitalità degli ospitalieri di fronte all'ospedale del San Michele c'erano gli ospitalieri sull'altra sponda dello scalo dei marmi e scusate se gioco sempre troppo con le parole ma gli ospitalieri i cavalieri di Malta erano a Malta e Thomas More in quel Cinquecento di cui ho cercato di fare qualche cenno nel disegnare l'isola di Utopia sembra disegnare il porto della Valletta l'isola di Malta che proprio in quel periodo è scelta dall'Inghilterra dunque è Utopia a nessun posto talmente bella e perfetta da non poter essere vista e realizzata in questo mondo o è Eutopia e quindi un buon posto esattamente come l'EU Angelo che poi per via di grafica è diventato Evangelo ma il buon messaggio la radice greca E.U è il buon posto si può dire che l'opera di Piranesi si racchiuda in questa utopia che avvolge anche l'isola di Malta e il priorato nel quale è sepolto sotto un monumento che non è il suo anche se lo ritrae perché il suo sta a Parigi sia proprio la chiave per la lettura delle sue opere che troppo spesso sono state giudicate approssimative al punto che perfino le macchie che lui recava in fase di stampa o con l'abrasione delle incisioni o col movimento della carta durante l'impressione perfino quelle che sembrano volute imperfezioni se non avessimo le descrizioni le considereremmo imperfezioni perfino quelle sembrano alludere al moto e alla persistenza dell'immagine sulla retina cioè nulla di quel che sembra errore è tale grazie grazie tantissime grazie davvero a voi tutti che siete intervenuti e ovviamente alla fondazione BES grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti